Ciao, sono Giulia, Miss Mamma Evergreen Nazionale e Dolcezza. Il Natale, il Natale per me è un tempo magico e mi fa ricordare i momenti da piccola passata in famiglia, l'albero da addobbare, il presepe, la tavola da preparare. Sì, una tavola grande davanti al cammino nella taverna dei nonni. Non mancava nessuno, la mia mamma, il mio papà, le mie sorelline, zii e cugine. Sotto il piatto del papà una letterina, scritta con il cuore da bambina, per augurare buon Natale a tutta la famiglia. Si aprivano i regali ancora prima di mangiare e fino a sera si continuava a festeggiare. Questi ricordi rimarranno per sempre nel mio cuore. Il tempo è passato, la magia può continuare. Ancora oggi mi piace passare il Natale insieme alle persone che amo. Ora una famiglia mia, tre figli adorabili, un nipotino bellissimo, i miei genitori, le mie sorelle, con le loro famiglie. Festeggerò insieme a loro godendo ogni singolo momento della loro presenza. Buon Natale a tutti!